Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Nel comune di Pescia dal 20 maggio modifiche alla circolazione per lavori di ripristino della pavimentazione stradale in pietra lungo la strada regionale 435 Lucchese. Per i treni proseguono gli interventi di RFI per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. Per consentire l'operatività dei cantieri la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa per tutta la giornata di oggi, domenica 12 maggio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!